L'anno scorso abbiamo fatto un gran anno con quello che abbiamo fatto, quindi dovevamo correggere alcune cose, perché sappiamo che è un campionato diverso, ma con lo stesso entusiasmo l'anno scorso. Tre compagni nuovi che si devono abituare al gioco che chiede Giacchini. Penso che Luca Rigoni lo conosce un po', però Quaissone e Cioceva non lo conosce tanto, quindi devono capire ancora un po' di più quello del suo ruolo e quello che le chiede il mister, che sicuro lo faranno bene. Qua I Cioceva sono giocatori simili, che hanno velocità, sono bravo tecnicamente e penso che nel suo ruolo possono fare tanto bene. Io sto tranquillo, penso solo a lavorare e fare un bel ritiro. Abbiamo ancora altri 15 giorni per lavorare, per fare bene, quindi si deve fare il meglio perché è un campionato duro e si deve essere concentrato anche in ogni allenamento. Poi noi attaccanti chiediamo sempre al mister se possiamo rimanere a calciare un po', fare calcio e punizione perché serve per uno lavorare un po' di più. Poi sono allenatori che ti lasciano fare e sono alcuni che no. Ringrazio Giacchini che lavora un po' di più anche quando è finito l'allenamento con noi. Penso che uno sempre si pone gli obiettivi al di là del sogno, di fare bene, di quante partite vuoi giocare, magari quanti vuoi fare. Penso che ogni giocatore ha il suo. Io ancora non l'ho pensato, però prima del campionato sicuro metterò un obiettivo per me stesso. Con rispetto al campionato che ha fatto questo gruppo l'anno scorso merita di avere il Barbera con più gente, un po' più pieno. Penso che la gente crede più in noi dopo l'anno che abbiamo fatto e penso che saranno delle partite dove il Barbera sarà pieno, sono sicuro. Grazie.